ok ciao ragazzi siamo su black ops 2 siamo tornati un po indietro c'è ancora gente che ci gioca devo dire ma ce n'è abbastanza soprattutto in nella modalità nucleo match a squadre c'è c'è tanta gente c'è tanti citer vabbè però si sa che nei giochi vecchi i controlli sono quello che sono pre bello e giocabile gli fps dopo li vedrete sono comunque intorno ai 200 180 190 tutto ultra praticamente non ho visto dove siamo comunque andiamo con le metà a squadre ne oddio questo si poteva fare anche col cecchino però vabbè voglio un'azione pulita vediamo vediamo se riusciamo a fare una bella partita sento dei passi faffanculo era dietro the king stiamo vincendo lo scontro guardalo lì guardalo lì guardalo lì me l'hai fatto te e vabbè io devo ancora vederne uno ho un momenti casco pure di sotto ho fatto una doppia culo senza colpi la bastardo o cazzo era andato la o cazzo non è morto porca puttana comunque resta sempre un bel gioco questo e pochi cazzo sugar a chi è che stai sparando oh porco zio sugar porca troia senza colpi a secco nemico a terra preso ricarico preso preso grazie che cazzo è andato sto coglione di qua dove minchia siete eliminato senza colpi messi missile a storm pronto ci abbiamo le al store uccisione confermata oh nemico eliminato eh cazzo cazzo allora il cecchino granata adesiva che po' che non carico video perché c'è da me da me faceva un caldo assurdo e non avevo veramente un cazzo voglia di 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 stare davanti al computer con tutto il caldo che faceva ad agosto ad agosto fino a pochi giorni fa eh perché dove sei andato nemico a terra ma quel deficiente del mio amico che era lì di fianco ma che cazzo fa eh mico sopra di noi in piedi attenzione UAV di disturbo online the king the king che cazzo cecchino eh c'è il cecchino lì vinto quanto ne abbiamo fatti 22.13 1.69 dai non è malissimo no diciamo che va bene vediamo che mappa c'è vediamo che mappa c'è adesso c'è Nuketown 2025 non hanno voluto Nuketown abbiamo plazza emetar vedete i frame sono arrivano a 200 arrivano praticamente calma e concentrazione fluidissimo è veramente una cosa impressionante a quanto è fluido sti cazzi un Knoun è andato stiamo vincendo lo scontro cambio caricatore e che cazzo fai coglione di merda vantaggio questo mignottone dove cazzo è devo cambiare tasto per la secondaria eh ce lo siamo divisi in quattro ma vaffanculo va guarda questo come cazzo è arrivato Luca Luca eh Luca te citi te citi segnala hai capito dove camperano Luca hai rotto il cazzo eh drone d'attacco in azione guarda guarda ma che schifo però dai cazzo di camper di merda di sta mappa non vado matto se in più camperano così qua mi trovo Luca che arriva di corsa ma su chiamalo UAV di disturbo nemico sopra di qua radar disattivato stordente lanciata vedrete che arrivano arrivano dal di qua guardalo lì l'uccisione con sei a posto sei a posto cazzo sei andato qui passiamo dalla disco eh minaccia neutralizzata arma scarica è andato è andato ricarico ho sentito caricare sopra MASTARDO niente dai raga diciamo che due partite possono anche bastare l'ottobre arriva a mv3 eh quante ne abbiamo fatti non è che ho guardato 15-12 niente raga diciamo che il video finisce qua se vi è piaciuto mi raccomando lasciatemi un like un commento se vi va iscrivetevi al canale battevi il 2042 sinceramente non mi va giù scusate veramente rosso è rotto il cazzo battevi il 2042 non mi va giù assolutamente quindi scusatemi ma non lo porto proprio più cioè giocare un gioco che mi fa cagare veramente cagare cioè non riesco proprio divertirmi quindi sono tornato a fare sono tornato a giocare a questi giochi del passato che mi appassionano di più succhia succhia che cazzo sta dicendo il rosario? niente raga ci becchiamo alla prossima ciao belli